Se hai già imparato ad eseguire il Cattleman's Crack dritto, la versione reverse, e sei riuscito a concatenarli insieme, quindi a fare la Slow Figure 8, la figura 8 lenta, il prossimo schiocco che ti propongo tra quelli di base è meccanicamente identico allo schiocco dell'allevatore, solo che viene portato sul piano orizzontale. Quindi, se prima avevo il caricamento in verticale e la distensione in verticale, questa volta avrò il caricamento in orizzontale e la distensione in orizzontale. Questa è una tecnica, tra l'altro, abbastanza comune nelle arti marziali. Per esempio, nel Tai Chi, il movimento Dan Pien, frusta singola, esiste anche nello Shaolin. Ora, non fare troppo caso a come lo faccio io, perché magari tu fai uno stile di Kung Fu che muove leggermente in maniera diversa le mani da come le ho mosse io. Però quasi tutte le forme di Shaolin e Tai Chi prevedono la tecnica Dan Pien, cioè la tecnica della frusta singola. Questo stesso movimento lo ritroviamo nell'esecuzione della frusta vera, chiaramente. E adesso insieme andiamo a vedere come farlo. La parte più importante è il caricamento. Un caricamento che fa schifo, produce uno schiocco, una movimentazione sbagliata e c'è anche il rischio di potersi prendere e farsi del male. Per cui, cosa più importante, devi imparare a caricare riuscendo a scavalcare bene il braccio che sostiene la frusta. Se ti succede questo mentre fai la fase di caricamento, cioè ti si avvolge intorno al corpo, c'è qualcosa che non va. La movimentazione di caricamento deve far sì che la prima sequenza circolare faccia ricadere la frusta sul tuo avambraccio. Se ti fermi e la frusta cade qua, vuol dire che stai facendo il lavoro corretto. Quando questa prima fase è consolidata, mentre la frusta si trova dietro di te, ridistendi il braccio in avanti. Quindi faccio questo. Vediamolo ancora. Se io mi fermo, guarda, la frusta tende a salire quasi oltre la linea della mia mano. Come minimo deve arrivare sull'avambraccio. That's it. Ok, quindi overhead flick, carico. Quando la frusta è dietro, la distendi in avanti. Ok, vediamo adesso con la frusta da otto piedi in canguro lo stesso movimento. Te la faccio vedere anche da altre angolazioni. Se sei riuscito ad eseguire correttamente l'overhead flick, ora è il momento di provarlo al contrario. Se lo vuoi provare al contrario, il meccanismo di caricamento è sempre lo stesso. Nella fase circolare di caricamento, che ovviamente in questo caso sarà nella direzione opposta, devi fare in modo che la frusta scavalchi completamente la tua testa, arrivi ad appoggiarsi sul suo manico o al massimo sull'avambraccio. Questo dipende un po' dalla forza che ci metti. Però è importantissimo che non succeda questo. Se ti colpisci nella fase di caricamento, vai molto vicino al tuo corpo, rischi in fase di distensione chiaramente di farti del male. Quindi, se riesci ad eseguire bene il caricamento, mentre la frusta è sopra di te, distendi in avanti. Carico. Vediamo lo schiocco con la frusta di canguro. Grazie a tutti.